L'ADOC provinciale di Taranto è per così dire protagonista di questa puntata dello sportello del cittadino. Siamo con Domenico Votano, presidente provinciale dell'ADOC di Taranto e parliamo di un triste fenomeno che si sta diffondendo a macchia d'olio a Taranto. Circolano tantissime automobili prive del contrassegno assicurativo, senza assicurazione. Allora Votano, vediamo i rischi che una condotta del genere comporta e in che modo vi state attrezzando insieme con le forze dell'ordine per arginare, per stroncare, usiamo un termine forte, il fenomeno. La gravità è estrema. Chi subisce un danno da parte di questi scellerati, di questi delinquenti per andare a recuperare l'eventuale danno, i soldi, è davvero difficile un'impresa perché dovrà fare cause, 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 cause. Spacciato chi tenta questa condotta? Gli auguro di non subire mai danni da questi scellerati. Tra la mancanza di assicurazione e il bollino falso Taranto è tra le prime città in Italia. Abbiamo anche questo triste primato. D'altronde proprio a Taranto è stata scoperta la seconda e la terza truffa in tal senso di assicurazioni false. L'intervento delle forze dell'ordine è da applaudire, è un grande applauso perché riescono a beccare questi delinquenti, riescono a bloccare questa associazione a delinquere di questi personaggi che fanno assicurazioni false oppure di gente che non ne vuole proprio sapere dell'assicurazione e non sia sicura. Per motivi economici penso o perché non se ne frega proprio della vita altrua. O perché sono proprio truffaldini nel DNA. Sono truffaldini nel DNA, del DNA anche di generazione e generazione. Un invito a stare attenti ai cittadini onesti. Sappiamo che comunque dalla prossima settimana non sarà più neanche obbligatorio esporre il tagliandino perché comunque tutti i dati di ogni singolo cittadino di ogni singola auto è messo in rete e quindi con una semplice visione da parte delle autorità di polizia della targa in una centrale unica di dati quella macchina, quell'auto risulterà essere assicurata o meno. Se non è assicurata verrà fermata sul momento.